sono sempre io la nostra amata giuditta lo so che vi aspettavate la presentatrice ma non disperate ci sono io vi dico la verità a me non piace molto cucinare ma a mangiare non mi batte nessuno quindi vi dico una cosa seguite la ricetta preparate questo delizioso piatto e invitatevi toc toc miei cari fans avete cucinato da chi verrò a mangiare oggi grazie ciao